Dopo una prima fase sperimentale, dal 1 ottobre la raccolta differenziata nei quartieri spagnoli sarà estesa a tutte le famiglie. Nonostante le carenze economiche e di personale, Assia intensifica il suo lavoro sul territorio e saranno molto più dure, annuncia il primo cittadino, le misure repressive contro chi commette illeciti. Aumentano i comportamenti virtuosi, c'è ancora qualche incivile, chiederò uno sforzo particolare alla Polizia Municipale e alle altre forze dell'ordine di intervenire applicando le ordinanze, che ricordo sono 600 euro di multa e con la recidiva per gli esercizi commerciali c'è anche la chiusura. L'obiettivo, spiega il presidente di Assia Raffaele del Giudice, è dire definitivamente addio ai cassonetti. Si chiede dunque la collaborazione dei cittadini ed è già partita una fitta campagna informativa su tempi e modalità della raccolta. Siamo intorno ai 25 mila utenze, poi abbiamo separato utenze commerciali dalle famiglie, abbiamo avuto una grandissima collaborazione con varie associazioni, comitati, la municipalità, quindi abbiamo fatto già una ottima mediazione territoriale. C'è stato il nostro gazebo con l'Infopoint, con le persone di Assia, dove abbiamo incontrato i cittadini, abbiamo anche analizzato alcune tipicità. Il calendario è stato distribuito presso tutti i condomini coinvolti e riporta le fasce orarie di esposizione dei contenitori o dei sacchetti. Sarà garantito sette giorni su sette il recupero del materiale indifferenziato e tre volte a settimana, compresa la domenica, il conferimento dell'umido. Vorrei dire che noi come Comune di Napoli abbiamo ricevuto in tre anni e più soltanto 8 milioni dalla regione Campania e 5 milioni dal Ministero dell'Ambiente. Ci sono altre regioni del nostro paese, altre città della nostra regione che hanno ricevuto ben altri finanziamenti ed è facile poi fare la raccolta differenziata quando si dispone di molte risorse. L'avvio della raccolta differenziata costa, quindi man mano che riusciamo a fare delle economie e a investire con il nostro bilancio stiamo estendendo il porta a porta e qui lo facciamo in una zona difficile a dimostrazione del fatto che è possibile farla in tutta la città. L'amministrazione è dunque impegnata in prima linea sul tema dei rifiuti, sono sei le isole ecologiche già attivate nei diversi quartieri cittadini per il deposito dei materiali che non vanno nei normali contenitori e dodici le macchine spazzatrici che contribuiranno alla pulizia delle strade in tutte le municipalità. A brevissimo nel mese di ottobre completeremo anche la parte commerciale, quindi via Santa Brigida, via Toledo, arrivando fino al municipio è la parte commerciale, pensiamo di fare altre ancora estensioni, abbiamo finanziamenti per altri 100.000 abitanti, poi dovremo trovare altre risorse.